Musica Massi Caffè è presente qui al Festival del Territorio? Perché avete deciso di partecipare a questa manifestazione? Intanto per noi è un'importante opportunità per farci conoscere, per presentare i nostri prodotti e per avere un rapporto più diretto con il cliente. Quindi il cliente qui può vedere tutti i prodotti che poi mettete in vendita? Qui il cliente può vedere tutti i prodotti che abbiamo nel nostro punto vendita che è la casa del caffè, si trova in via Caravaggio ad Arezzo e può appunto vedere tutto quello che abbiamo o perlomeno una buona parte dei prodotti che abbiamo nel nostro punto vendita. Qual è la vostra offerta? Che cosa proponete? Noi vendiamo caffè, vendiamo caffè per moca, per espresso, vendiamo caffè in capsula, abbiamo diversi marchi come Illy, Bialetti, abbiamo i compatibili per l'anespresso, per la lavazza a modo mio, abbiamo diciamo un'ampia offerta di caffè, un po' per tutti i gusti. Quali sono i vostri orari di apertura? Allora la mattina dalle 9 alle 13, dal lunedì al sabato e il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì. Massi caffè, diciamo il caffè grande passione degli italiani e anche degli aretini ma non solo caffè? No, non solo caffè, noi abbiamo una linea di tè, tisane e infusi in filtro, quindi anche per chi è amante di tè e infusi può trovare da noi un'ampia scelta. Tra l'altro abbiamo due linee e sono entrambe di natura biologica, insomma, di produzione biologica. Poi abbiamo anche accessori, macchinette moche, macchinette anche uso comodato, per cui chi è interessato a avere una macchinetta incomodata può rivolgersi a noi. Quindi le possono usare sia una famiglia ma anche ad esempio un ufficio, un'azienda? Esatto, sì sì, sono sia per famiglia che macchinette uso ufficio aziendale. Quindi rifate il rifornimento anche su chiamata a domicilio? Esatto, noi facciamo anche consegne a domicilio.